Diciamo che, come hai detto te, i campi della Serie D, i campi della Champions League ne passa diciamo che sono due cose completamente diverse. La Champions League penso che per ogni bambino, ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio sia un punto d'arrivo molto difficile da raggiungere, in pochi riescono a giocare queste partite, quindi sicuramente per me è stato qualcosa di unico e se ripenso a tutte le cose che ho fatto per arrivare dove sono oggi è qualcosa di incredibile. Ogni tanto ci penso e mi emoziono e quindi spero di continuare così.